Musica 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 Interessante! Sei un bell'uomo! Ho conosciuto di De Novo, era il 1982, eravamo al Palasport di Bologna, c'era l'ultimo giorno, insomma la giornata finale di questo contest il secondo Pest va del Rocchi italiano, loro arrivavano secondi e io li conopi in proiezione lì Nientinzetti su Wilma, che era la canzone che ci aveva portato una certa notorietà, era la canzone che attirava un po' di più l'attenzione anche per la sua bizzarria, per la sua stranezza, allora bisognava essere strani a tutti i costi Nientinzetti su Wilma, nella mano, nella pillola amara, fin dallo specchio al suo viso perfetto e dalla sua immobilità... Lascio tutto con una telefonata del nostro storico manager Francesco Fracassi che mi chiama e mi dice ho ritrovato dei nastri, delle prime incisioni, io sapevo che esistevano delle incisioni fatte a Firenze all'inizio, proprio agli albori della nostra storia era l'83 più o meno il periodo, mai più usati, mai pubblicati Conosci mai perché poi in seguito i ragazzi all'epoca erano veramente una macchina da guerra, nel senso che componevano in continuazione e già si portava nei concerti tutto un depertorio assolutamente nuovo Invece abbiamo riscoperto questi dodici brani suonati... cioè suonati trent'anni fa, capito? E così non abbiamo toccato niente, abbiamo preso e abbiamo cercato di dargli un po' una ripulita, più che altro Non ero per niente retro, come dire, non sapevano di brani fatti trent'anni fa Ora, vabbè, uno può dirmi, beh, è chiaro, tu sei fatto in causa... No, no, ma io parlo sinceramente, cioè veramente sono rimasto anch'io colpito perché rifatti con dei suoni particolari Devo dire che sono attualissimi In queste canzoni c'è tutta l'anima nervosa, sincopata dei primi De Novo, quella più genuina che forse un po' col tempo magari abbiamo smussato per cercare di raggiungere un pubblico più vasto I De Novo, eccoli qua Ho un difetto molto strano e mi sento un po' di male Casualmente mi è capitato di ritrovarli dentro la valigia in un magazzino a casa di mia madre e poi un po' alla volta mi è venuta la curiosità di andare a verificare questa cosa E lui mi ha detto appunto ho ritrovato questi nastri, ho intenzione di lavorarli, di intanto vedere se c'è qualche cosa ancora dentro, se si sono cancellati perché voglio festeggiare il trentennale Ci sono alcune canzoni che suonano ancora oggi freschissime Ipnosi che abbiamo scelto come apripista per questa riesumazione Suona ancora molto fresca, ci sono delle influenze anche della prima New Wave degli anni 80, del post-punk anche di una certa No Wave che aveva delle influenze jazzistiche Il significato di questa operazione è puramente affettivo Ecco devo dire che ritrovare trent'anni dopo l'entusiasmo che avevamo in quelle registrazioni è stata forse la cosa più bella Noi guardiamo anche con una certa tenerezza a noi ragazzi trent'anni fa che fanno quella musica quando ci ascoltiamo ci crea un effetto così come si guardano le fotografie della scuola Ipnosi dai sensi Ipnosi dai sensi Ipnosi dai sensi ora stai sentendo tutto un concentrato le chitarre e le voci mi sembrano comunque abbastanza belle ora stai sentendo un concentrato passadutto su un digitale cioè mi torna il solo digitale ma tu pensa quando lo apri su un mixer analogico a casa non mi conosce più dalla mattina e tavola all'enco non c'è di spazio per le mie cortesie Grazie a tutti.